Questo paese è stato messo sull'oro del precipizio della destra per salvarsi, c'è bisogno di una riscossa molto larga, di una riscossa civica e morale prima di tutto, perché senza questo non ci può essere nemmeno una risalita sul piano economico e sociale. Io ho sempre detto, non ho ragione per cambiare opinione, che proprio perché Monti deve essere ancora utile a questo paese, sarebbe meglio rimanesse fuori dalla contesa, ma detto questo ribadisco anche che ognuno naturalmente ha assolutamente la libertà di fare le proprie valutazioni, di scegliere come ritiene, quindi con grande tranquillità, grande serenità.